Da un mese denunciano i residenti, non si vede un operaio in zona, di punto in bianco, senza alcuna comunicazione, sono stati sospesi gli interventi per il ripristino del manto stradale sul viale Regina Elena. Obiettivo dei lavori, iniziati alla fine dell'estate, ultimati soltanto nel breve tratto nei pressi della rotatoria di viale annunziata, era l'eliminazione delle radici che rendono la circonvallazione di Messina una strada pericolosa. Un'insidia per automobilisti e pedoni, è scaduta pure l'ordinanza emessa al Dipartimento di Mobilità Urbana. Il restringimento della carreggiata con relativo divieto di sosta era stato concesso fino allo scorso 30 novembre. Non conosciamo i motivi dello stop, fatto sta che il cantiere è stato abbandonato e rappresenta un problema per la circolazione viaria ed anche per chi transita a piedi e deve attraversare quel tratto di circonvallazione e si trova l'accesso sbarrato. Le difficoltà aumentano e sono più evidenti nelle ore serali. La segnaletica è carente, non c'è alcuna indicazione. I lavori sono stati appaltati dal comune di Messina che ha messo in bilancio per questo tipo di intervento 800 mila euro. Risorse ricavate dai fondi Tasi del 2014, finanziamento tuttavia insufficiente per risolvere il problema che è molto più ampio e riguarda tutta la circonvallazione.